E' stato preso l'autore delle tre rapine sul raccordo Arezzo-Battifolla, i danni di alcune stazioni di servizio. Per lui, reato ipotizzato e rapina, si tratta di un 33enne valdarnese, mentre per la compagna che sarebbe stata alla guida di una Ford Fiesta Bianca, con la quale si sarebbero diretti alle stazioni di servizio, concorso in rapina. Siamo partiti a piccoli passi per gradi, andando prima di individuare il mezzo con il quale il rapinatori si allontanava dal posto, un mezzo che poi è risultato essere una Ford Fiesta intestata alla compagna, concorrente ovviamente delle rapine. Siamo riusciti ad individuare, oltre al mezzo, la compagna del rapinatore per poi arrivare a lui. L'autista era con lei la quale, proprietaria della vettura con cui venivano fatte le rapine, utilizzava la propria macchina e aspettava il compagno all'esterno del locale, rimanendo sulla strada per facilitare la fuga, fuga che era resa ancora più facile secondo i rapinatori, scegliendo degli obiettivi che erano vicini al casello autostradale, in maniera tale da riprendere immediatamente l'autostrada e scappare via. Utilizza una prima volta una pistola che non siamo riusciti a reperire e in una terza occasione il coltello. In occasione della seconda rapina, quella del 5 di gennaio alla quota del raccordo Arezzo Battifolle, il soggetto mima il possesso della pistola puntando due dita, l'indice e il medio con il pollice alzato, verso la cassiera e intimandoli di consegnargli l'incasso. La montata del bottino è stata circa 1200 euro per le tre rapine, 500 circa in una prima occasione, 700 circa in una seconda e 100 circa in una terza. Ho avuto la possibilità di entrare nella gestione di questo ufficio da poco tempo, però comunque posso riscontrare che i miei uomini sono riusciti a condurre questa operazione e assicurare alla giustizia i due rapinatori. Grazie a tutti.